Il Mondiale Antirazzisti è una grande opportunità che noi vogliamo, ci dia la possibilità di crescere, di coinvolgere tutto il territorio regionale, di fare delle aperture, di dare la possibilità alle nostre associazioni di entrare in un nuovo meccanismo, in un nuovo mondo, che è quello dell'integrazione, che è quello di portare a conoscenza di tutti i nostri territori queste nuove realtà sociali. Siamo pronti e molto concentrati, speriamo di avere una grande partecipazione che ci dia la possibilità di utilizzare il Mondiale Antirazzisti come punto di partenza per una nuova crescita che sia di tutto il territorio calabrese e che da lì magari possa trovare spunto anche per irradiarsi in tutto quello che è il territorio nazionale. Credo inoltre che questa manifestazione sarà una grande opportunità per le nostre società sportive, di tutto il territorio regionale per crescita, sempre per essere presenti e dare un contributo a questa apertura che è compresa in una manifestazione così particolare, così speciale come sono i Mondiali Antirazzisti. Perciò io aspetto tutte le nostre 300 società sportive a questo importante appuntamento di luglio perché insieme a loro possiamo riuscire a trovare il modo di percorrere una nuova strada che ci allarghi gli orizzonti e ci dia la possibilità di sviluppare discorsi nuovi ma molto molto importanti per il nostro territorio regionale.